Ciao, sono Gianluca Bocci e c'è un po' di chetone sottofondo e che sono al mio primo giro in bici di questo 2018 questo qui è anche per provare questi particolari, non so se chiamarli, cuffie o auricolari comunque sono a conduzione ossea, quindi vedete le orecchie sono libere così le macchine e tra poco anche un trattore che passano qui dietro riesco a sentirle a tutto vantaggio della sicurezza ma andiamo al mio studio e vediamo bene come si indossa il trattorone, come funziona appunto questa conduzione ossea andiamo allora come si indossano e soprattutto come funzionano queste cuffie a conduzione ossea per spiegarvi come funziona faccio vedere un attimo questo disegnino che mostra l'anatomia del nostro orecchio e fa vedere che noi riusciamo a percepire i suoni tramite due mezzi, la via aerea e la via ossea la via aerea sono l'onde sonore, lo spostamento dell'aria che appunto entra nel nostro padiglione auricolare e ci fa percepire i suoni ma in realtà anche qualsiasi vibrazione che colpisce le nostre ossa specialmente appunto quelle in prossimità delle orecchie vengono ben percepite dal nostro punto nervo uditivo per questo quando ci arriva una scoppola sulla testa la sentiamo così bene perché percepiamo sia il dolore sia le vibrazioni che appunto arrivano al nostro nervo uditivo queste cuffie si passano su questo in pratica i loro trasduttori, tra poco vi farò vedere ben da vicino trasmettono vibrazioni, si indossano in questo modo direttamente appunto all'osso nelle immediate prossimità del nostro orecchio e funziona in maniera incredibilmente buona attenzione, i bassi non ci sono la ditta, ora vi farò vedere tra poco, lo dichiaro in maniera onesta però medi e alti, quindi per esempio l'intelligibilità del cantato o del parlato sulla telefonata è assolutamente perfetto e effettivamente siccome però non vengono chiusi quelli che sono i condotti uditivi che succede? come vi faccio vedere in apertura mentre uno in bici i rumori esterni, le macchine o un cane che abbaglia, che ci vuole azzannare i polpacci lo sentiamo subito a tutto vantaggio della sicurezza situazione più rilassata, siamo in ufficio dobbiamo sentire i nostri colleghi che magari ci chiamano ma intanto possiamo sentire la nostra musica preferita i due suoni si sovrappongono e vi dico che la sensazione è un po' strana ma ne parliamo più avanti quando arriveremo alle pagelline c'è un ma, un ma effettivo allora funziona bene se il contatto con l'osso è stabile è comodo la struttura, funziona molto bene anche per me che porto gli occhiali però in realtà quando prendo e alzo la testa si muove il tutto e il contatto qui appunto con le ossa le prossimità delle orecchie si perde e questa è la situazione in cui insomma non sono proprio l'ideale quindi effettivamente in ufficio quando stai bello fermo a lavorare il computer va bene, quando vai a core e quando vai in bici non è il massimo ma andiamo a vederli più da vicino con un bel unboxing bene, questa è la confezione di vendita di questi Bone Conduction Headphones LF-19 nella confezione faccio notare due cose innanzitutto viene indicata la risposta in frequenza dai 100 ai 18 Hz quindi appunto ho una risposta in gamma bassa praticamente inesistente lo riparerò tra poco e una batteria minuscola sempre a 160 mAh ma in realtà io l'ho utilizzata per tre ore complessivamente l'urco l'una settimana quindi accendendoli, spegnendoli quando mi serviva e la batteria è ancora carica quindi chi si allena tre volte a settimana va effettivamente bene anche qui vedete riportato le indicazioni ma le abbiamo già visto su come indossarle nel modo corretto vi faccio notare anche questa parte qui ho sbattuto con la telecamera in cui indica i quattro punti di forza importante per la salute in quanto è confortevole ed è sicuro mantenendo le orecchie libere ma andiamo ad aprire la confezione si leva la parte trasparente abbiamo subito le nostre cuffie subito sotto eccoci abbiamo le istruzioni in cinese e in inglese ovviamente dell'italiano non verrà mai traccia molto carino questo abbiamo in dotazione una custodia morbida semplicissima, non personalizzata però c'è cosa effettivamente da apprezzare abbiamo il cavetto micro usb per la ricarica della batteria integrata e cosa molto particolare e interessante vedete abbiamo degli inserti classici tappe auricolari perché se noi appunto lavoriamo su un ambiente molto rumoroso cosa facciamo? con questi escludiamo i rumori e con questi ascoltiamo la musica quindi il tipico utilizzo d'ambiente lavorativo professionale ma andiamo a ingrandire e rimettere a fuoco per vedere appunto quelli che sono i comandi allora vedete qui la luce sta già lampeggiando rimettiamo a fuoco meglio eccoci e l'accensione o lo spegnimento avviene tramite il tasto M infatti adesso lo premo a lungo e c'è anche una vocina che ci dice gentilmente in inglese power off allora un difetto lo vedete che è successo in questo momento cosa succede? in realtà lo spento con una pressione lunga ma ha preso la pressione lunga come una nuova pressione lunga per quello che è praticamente l'accensione quindi l'unico vero difetto che ho trovato è questo cioè spegnerlo onestamente non è facile ci riproviamo ok adesso ci sono riuscito qui sotto scavicchiando c'è il connettore micro usb per la ricarica poi qui sopra rimettiamo un istante a fuoco ecco abbiamo i tasti per il controllo del volume più o meno mentre il tastone qui sulla parte sinistra che serve per mettere in pausa o per rispondere alle chiamate allora in telefonata il microfonino è esattamente adesso l'ho perso eccolo qui da rimettere a fuoco per la miradissima volta ecco il microfonino con mia moglie mi ha detto guarda la tua voce è ben intellegibile ma comunque è indietro al microfono ce l'abbiamo vicino alle orecchie quindi il nostro interlocutore avrà la sensazione che la voce è lontana ma quello che è importante sempre sui pad rimettiamo ancora una volta a fuoco è questa la parte che va a contatto quindi con l'osso come ho fatto vedere prima e questo puntino qui un po' sporgente è quello che deve fare ben contatto perché sarà questo che ci permetterà di sentire bene oppure se non c'è un buon contatto qui di sentire effettivamente male e come si sente vi faccio fare un giochino ma davvero un giochino utilizzando questa scatolina di cartone come se fosse una specie di piccola testolina ascoltiamo io sono mai sfidato qualcuno va a fregare bene questo giochino con la scatolina per farvi vedere come appunto la trasmissione meccanica delle vibrazioni da queste cuffie a un oggetto ridido come appunto una scatolina oppure il nostro cranio quindi le nostre ossa funziona effettivamente si sente e andando infatti a dire cosa mi piace o non mi piace la cosa che piace funziona ero curioso di provare questa conduzione ossea per dire ma un suono che non è dell'aria che si muove quindi dentro il nostro condotto auditivo si riesce a sentire sì effettivamente si riesce a sentire in maniera anche dignitosa allora vi dico subito lasciate perdere alta facilità resa a dettaglio no qui effettivamente è un'applicazione al limite non si parla di alta fedeltà ma di riuscire a sentire il suono lasciando libero o del tutto chiuso per assurdo ma riutilizzando appunto dei tappi per le orecchie il condotto auditivo quindi un'applicazione molto particolare comfort effettivamente incredibile tutte quelle persone che soffrono di avere qualcosa infilato dentro l'orecchio o che d'estate avere una cosa che chiude tutto l'orecchio gli fa caldo e lo fa sudare questa è la soluzione effettivamente comoda tra l'altro ovviamente resiste al sudore quindi non c'è problema in questo senso e giustamente l'aspetto di sicurezza lo utilizziamo per andare a correre andare in bici non sentiremo la musica così bene così ben dettagliata ma è importante che sentiamo bene e dettagliata la macchina che ci sta per falciare che arriva da dietro quindi sicurezza a massimi livelli sicurezza anche sul lavoro che invece di farci licenziare perché ci stanno chiamando e noi li sentiamo qui appunto ci chiamano e evitiamo anche situazioni sgradevoli sul posto del lavoro allora non piace questo sistema di accensione spegnimento con pressione lunga ma succede che quando tu lo vai a spegnere viene presa come spegni e accendi subito quindi bisogna premere a lungo ma non troppo altrimenti si crea questa sequenza di accensione e spegnimenti i bassi sono del tutto assenti dichiarate in maniera onestissima dall'azienda che appunto dice parte la risposta in frequenza dai 100 Hz quindi i bassi ci sono ma i bassi poco bassi passatemi il termine e comunque rimane instabile quindi il suono va a peggiorare quando muova la testa in alto in basso perché si perde il contatto appunto tra gli elementi che trasmettono vibrazioni e le nostre ossa tutto qui una recensione di un prodotto davvero molto particolare se vi è piaciuto mettetelo un bel mi piace qui sotto se non vi è piaciuto spiegatemi il perché non vi è piaciuto utilizzando i commenti qui sotto poi se non siete già iscritti il bollino è sempre in alto che vi aspetta per essere cliccato e un altro dei miei video ve lo suggerisco qui a fianco e quindi da Gianluca e da queste cuffie a conduzione ossea ciao e alla prossima ciao ciao ciao